Ciao e bentrovati! Oggi andremo a lavorare le cosiddette maniglie dell'amore, ombliqui dell'addome e il girovita. Tutto quello che ci servirà è un tappeto e se hai un piccolo sovraccarico va bene anche una bottiglia d'acqua, altrimenti ne puoi fare tranquillamente a meno. 10 minuti di intenso lavoro. Iniziamo subito! Le cose di oggi saranno delle oscillazioni in contrazioni su una tracetta dell'addome, piedi a terra, una bella cifra mento esterno, spalle basse, braccio più giù possibile, chiudi la giome e pronti a partire, fuori 1, 2, stringi 3, ogni volta l'obbligo di la giome, 4, va a toccare il malleolo più giù possibile, chiudi, sopra il tagliore, spingo, spingo, zonano in pare, sempre bene a terra, spingi giù, lavoriamo 45 secondi e 15 secondi invece ci spostiamo nell'esercizio successivo, vai, chiudi, stringi, butta fuori aria ogni volta, tira sempre dentro l'addome, fuori aria, gli ultimi 15 secondi, non muoiamo, stringo sempre al massimo, fuori aria, spingi, spingo, fuori, chiudi, 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 stoppiamo, decubito laterale, andiamo in plank, in appoggio, piede superiore avanti, inferiore dietro, oscillazioni del bacino, da terra a su, pronti, e da qui, sti ora, facciamo 30 secondi in un lato, 30 secondi nell'altro lato, chiudi bene la giome, ombelico bene dentro, spingo, biancola, su, su, siamo a metà, altri 15 secondi, non mollare, fuori, dai, dai ritmo, sti ora, non appoggiare mai il carico, ancora, cambio rapido, dall'altra parte, e subito iniziamo, vai, su, 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 ancora, chiudi, 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 15 secondi, ancora, vai, su, 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 stringo, al massimo, non mollo, ottimo, se hai il peso, utilizzi il peso, se non puoi farlo anche tranquillamente senza, piede terra, rascia il visco in piede terra, ora, facile, facile, chiudi l'addome, maggiore lì dentro, e vai, a toccare il peso, da una parte, e l'altra, chiudo, 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 stringo, stringi, 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 fuori, bene, giù, ancora, 45 secondi, non molliamo, stringi al massimo l'addome, serve per scaricare la tezzana l'addome, ogni volta, fuori aria, pancia in dentro, e chiudo, non molliamo, non molliamo, stringi, stringi, chiudi, molto bene, dagli ultimi 5 secondi, stringo, 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 ottimo, togliamo il nostro peso, e andiamo a fare un plank facilitato in appoggio sulle ginocchia, quindi l'arto inferiore verso terra, appoggia, mani giù, e andiamo a toccare il gomito ginocchio, fuori uno, e tocca, due, e ancora, tre, e ancora, apro quattro, non molliamo, e vai, e ancora, e stringo, dai, altri 15 secondi, e poi giriamo dall'altra parte, e facciamo 30 secondi dentro il stesso esercizio, sull'altro lato, chiudo, ancora, stringi, e rapidi ci giriamo, vai, ginocchio in appoggio, mano, e fuori uno, e resta, due, e resta, tre, e stai, quattro, e resta, cinque, fallo, con controllo, ma con un buon ritmo, 15 secondi ancora, vai, chiudo, non molliamo, dai, ritmo, ottimo, giù, quinto esercizio, incontrazione isometrica, arti, semi distesi, leggermente prezzi, stacchi, le mani, i gomiti schiorano, ma non scarico il peso, mano sinistra, piede destra, fuori, chiudo, schiudo, schiorano, ma non scarico il peso, fuori, spalle sempre scariche, lontanare le orecchie, non caricare il trapezio, concentrati sulla giove, abbiamo 45 secondi di lavoro qua, non molliamo, fuori, dentro la giove, su, tocca bene in alto, tocca bene in alto, fuori, stringo, stringo, vai, ultimi, ultimi, 15 secondi, vai, chiudo, stringo, pancia in dentro ogni volta, risucchia, non pericolo verso la colonna, attiva volontariamente l'addome, non mollare, stoppa, ricominciamo tutto da capo con un'intensità superiore, quindi chiudo, arti interiore verso l'alto e oscillazioni in contrazione su mancare l'addome, se non ce la fai puoi sbloccare le ginocchia, pronti, vai, uno, chiudo, due, zonano, non balla a terra, tre, quattro, cinque, contrai bene con le cifre, sei, sette, come se lo stoccavano qualcosa sotto di te, otto, vai, chiudo, nove, stringi ogni volta, prima, pensa alle contrazioni, prima che al movimento, il movimento è una conseguenza, la testa è sempre in estensione, non oscillare troppo con il capo, chiudo, chiudi, non è una passeggiata bucolica come spesso dico, stringo, stringo, al massimo, chiudo, 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 stringi al massimo, chiudi, massimo contrazione volontaria, schiacciata la bombare, non mollare, dai, cremata in tre secondi, vai, 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 stoppa, plank del cubito laterale, 30 secondi, 30 secondi, un piede sopra l'altro, quindi, ancor di più, lavoriamo in destabilizzazione, quindi simulazione proprio cestiva, e da qua, fuori, uno, i piedi variano, ora, sono uno sopra l'altro, prima era uno avanti, uno dietro, che ci davano stabilità, non molliamo, dai che siamo a metà, 15 secondi, dai, forza, 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 e vai, stringo, stringo, di più, ritmo, ritmo, vai, cambia veloce, subito, tutto dall'altra parte, vai, stringi, stringi, ancora, vai, 15 secondi, non molliamo, ancora, 5 secondi, fino alla fine, stoppa, ottimo, di nuovo, di nuovo, Russian twist, l'evoluzione, è di andare a staccare un'arte inferiore, quindi, arte inferiore, piedi staccati, e mentre oscillo con l'arco superiore, con la parte superiore, arte inferiore, va dall'altra parte, oscillo, in controllo addominale, sempre, fuori, 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 chiudo, 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 sfioro, stringi, stringi, sono 45 di lavoro, vai, chiudi, chiudo, stringo, lo molliamo, gli ultimi 15 secondi, ora, decubito laterale, piedi, uno sopra l'altro, mani, su, gomito ginocchio, a staccare, 30 secondi, pronti, si parte, vai, e appoggio, su, e appoggio, su, e appoggio, e appoggio, 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 sfiora, tocco, sfioro, tocco, sfioro, ancora 15 secondi, non vogliamo ora, stringi, stringi, chiudo, chiudo, chiudi, subito dall'altra parte, veloci, 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 vai, e ancora, attimo, è subito il nostro ultimo esercizio, salta, distendo, e mano opposta al piede, uno, e su, due, e vai, tre, non muoviamo, chiudi, cinque, 45 secondi in terza, forza, e ancora, su, e ancora, su, stringo, stringo, stringi, stringi, fuori, fuori, chiudo, ancora, non muoviamo, stringi, fuori, chiudo, al massimo, chiudi, chiudo, chiudo, ultimi 15 secondi, forza, stringo, 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 bravissimi, abbiamo finito il nostro protocollo di lavoro per le maniglie dell'amore, spero che ti sia piaciuto, mi raccomando, metti like se ti è piaciuto, lascia pure commenti, sono felice di risponderti, e naturalmente iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, ciao, alla prossima!